I miei cavi sono... Questi sono i suoi cavi. Anch'io ero una sua cavia. Chi ha parlato? Anch'io ero una sua cavia. Io ero una sua cavia e sono diventato una guardia. Ma non siete solo i miei cavi, sono i cavi di noi merito. Anche i miei cavi. Questo è falso. Assolutamente. La dimostrazione è che un volontario meritevole ha dimostrato la camicia bella. La stessa persona che l'ha vintesa fino a questo momento è qui per eseguire... Per una camicia bella. È corretto. Potrei almeno sapere le motivazioni. Ma per una camicia bella che è stata ben a tolta. Potrei chiedere una votazione democratica? Sì, è rivoluzionario. Ho aperto per eseguire... La facciamo finita. Possiamo attuare il protocollo? Il tempo è prezioso per quanto sia. Procedo? La votazione è volontaria. Sì, credo veramente che sia... 2,8,7. Proceda per cortesia. Se lei non desidera procedere immediatamente, penso che il soggetto 2,75 sia estremamente desiderato. Saremmo due simpatici. Un'altra è una pistola, cazzo. Quindi dentro. Ah, 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 ah. Sì. L'avevo detto che hai il balo. Ah, no, non lo faccio. Ai, ai, ai. L'avevo detto che hai il balo due settori. Grazie alla... Non ce ne va meglio. Ma le dico non ce ne va. Signora, prenda queste pillole. Sì. Ah, scusa. Cosa? Signora, la prego di prendere queste pillole. Comunque quando prendi una... La prego non è una frase che puoi usare in questo momento. Ora... Ancora, ancora. Ah, bravo. E' svenuto. Basta. Io non lo toccare. La presa? No, io non lo... Illan. E' simpalosa.